Sta diventando un caso il ripascimento della spiaggia libera ridosso del porto turistico di Ostia, sull'arenile del lungomare Duca degli Abruzzi che il decimo municipio ha destinato ai cani. Da giorni una ruspa è al lavoro per spianare le tornellate di sabbia che una pompa preleva direttamente dall'avamporto. Alcuni quotidiani nazionali hanno alimentato il sospetto che l'arena possa essere inquinata perché intrisa degli idrocarburi scaricati dalle imbarcazioni che poi si depositano sui fondali. Effettivamente ieri i primi bagnanti della stagione hanno nuotato in un'enorme chiazza marrone mentre sulla riva si accumulava una densa schiuma olivastra. Non c'è alcun rischio, assicurano i responsabili del porto turistico. Il dragaggio è stato autorizzato dalla regione e le sabbie provengono da un'area aperta sul mare e con costante ricambio d'acqua, soprattutto con le mareggiate di Scirocco e di Libeccio. Inoltre l'autorizzazione è stata rilasciata a pronte di specifiche analisi chimico-fisiche ecotossicologiche eseguite da parti terze certificate. L'attività di ripascimento, conclude polemicamente la nota, è opera meritoria a beneficio dell'intera collettività che dovrebbe essere apprezzata e non denigrata e ostacolata.